Un giovane, tirchissimo, dal braccino veramente corto, incontra un altro amico e gli fa «Oh Mario, ma lo sai, ho trovato il sistema per mangiare al ristorante senza pagare». E come fai? «Guarda, stasera andiamo al ristorante, mangiamo di tutto e beviamo di tutto, la tiriamo per le lunghe fino a tardasera, fino all'ora di chiusura, quando praticamente tutti se ne sono andati, anche qualche cameriere, quando ci chiedono il conto gli diciamo di aver pagato già al cameriere che se ne è andato». Ok, così fanno, la sera partono, vanno al ristorante, cominciano a mangiare di tutto, a bere di tutto, la tirano per le lunghe fino all'ora di chiusura, all'ora di chiusura arriva il cameriere e gli fa «Ragazzi, allora vi porto il conto?» e questo «Guarda, veramente abbiamo già pagato al tuo collega che già se ne è andato, credo». «Ah sì, è vero, va bene». L'altro si alza su e fa «E abbiamo anche 30 euro di resto». Se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sull'icona qui a destra. Ah, dimenticavo, è gratis!